Oggi andiamo al borghetto più bello d'Italia. Percorreremo l'acciclabile che la Peschiera del Garda porta a Borghetto, lungo il fiume Mincio. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Quando ho pensato a questo giro da proporvi avevo un solo dubbio. Meglio Peschiera del Garda a Borghetto o Borghetto-Peschiera del Garda? In effetti sono entrambe due gioielli della nostra Italia e patrimonio UNESCO. Alla fine ho scelto di seguire l'andamento dell'acqua, partendo quindi da qui, da Peschiera del Garda, per arrivare a Borghetto. L'acciclabile del Mincio è una vera autostrada verde, la più lunga d'Italia, che segue il percorso del Mincio e porta a Mantova. Peschiera del Garda merita una visita a parte, una città ricca di storia e la sua antichissima fortezza ce lo testimonia. Per la sua posizione strategica era già in epoca romana un fortilizio, passando poi a Castello Scaligero, avamposto della Repubblica di Venezia e ancora fortezza con Napoleone. Il percorso parte da qui e costeggia le antiche mure veneziane. Scendiamo fino alla riva del Mincio, che ci accompagnerà per tutto il percorso fino a Borghetto. Da Peschiera del Garda a Borghetto sono circa 15 chilometri, un percorso veramente semplice, l'ideale per risalire in sella dopo il lungo inverno ed è adatto a tutti. E in effetti si incontrano molte famigliole, tutti in bicicletta ma anche con i pattini a rotelle. A Peschiera eventualmente è anche possibile noleggiare le biciclette, sia muscolari che elettriche. Poche pedalate e ci si immerge nella natura. Solo il rumore dell'acqua accompagnato dal canto degli uccelli. Con questa ciclabile sconfineremo dal Veneto alla Lombardia e in sostanza percorriamo, come spesso accade, un tratto di quella che era la vecchia ferrovia Mantova-Peschiera, dismessa nel 1967. Questa che ora attraverseremo è la suggestiva diga sul Mincio. Lungo il tragitto ci sono alcune aree di sosta nel verde, mentre alcuni locali, bar, pizzerie hanno un accesso direttamente dalla ciclabile. Ed eccoci a Borghetto, un vero gioiello, con i suoi mulini ad acqua e cascatelle. Qui molte coppie, e sono veramente tante, si promettono amore eterno e lo sigillano con un lucchetto. Tutto il centro è disseminato di locali, di ottima qualità, e alcuni offrono la possibilità di pranzare in terrazze spettacolari, con nello sfondo il monumentale ponte Visconteo. Borghetto era già conosciuto in epoca medievale data la sua posizione strategica, un punto di guado del fiume dove si pagava un dazio per il passaggio. Poi in epoca scaligera, tra il 1200 e il 1300, il borgo e il ponte vennero fortificati. Borghetto è una frazione di valleggio sul Mincio, famosa nel mondo per i suoi tipici tortellini. E proprio queste locande da generazioni continuano questa tradizione. E qui ad attendermi c'è Alexander, un ragazzo ucraino appassionato del suo lavoro e di storia. Ciao Alexander! Buongiorno Ivan! Ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie! Tu lavori una delle locande più antiche di Borghetto, l'antica locanda Mincio. Questo è uno dei posti più antichi dove si fanno i tortellini. L'antica locanda Mincio è da quattro generazioni che esiste questo posto, fu fondata ancora nel periodo medievale, però si dice la storia narra che fu fondata dai Templari nel XII secolo. E questa locanda, anche all'interno, è ricca della tua passione, la storia. Assolutamente sì, questo è un posto ricchissimo della storia perché questo era uno dei tre gitti, ce n'erano due. Uno a Peschiera, l'altro si trovava qui a Valleggio dove si poteva attraversare, diciamo, sulle terre tedesche. I disegni che voi vedete sono i disegni di signor Belluomo, che è giusto l'artista che ha messo gli anni per dipingere questo nostro bellissimo posto. I quadri di cui voi vedete sono varie fasce di età, di periodo di Valleggio. Qui, per esempio, abbiamo l'incontro di Papa Colattila, che è avvenuto sulle nostre terre, non si sa il punto preciso dove, però tra Saglionze e giusto Valleggio. Abbiamo anche il nostro cammino che ci fa l'occolienza di inverno, è un cammino del 1600, il quale accendiamo di inverno e ci scalda i nostri clienti. Questo locale non è storia, noi siamo storia. A fargli il caso abbiamo la rappresentazione della macchina, che è la macchina del 1860. Qua, ovviamente, a parte i tortellini, facciamo i piatti tipici nostri, che sono tutte le pietanze rispettate della tradizione. Abbiamo carne alla griglia, pesce alla griglia, abbiamo un lavarello, abbiamo l'anguilla, abbiamo il pollo a rosto, la faraona, che sono i piatti forti e tipici di qua della zona tra Verona e Mantua. Alexander mi ha preparato un tavolo con una delle viste più suggestive su Borghetto, dove si può ammirare il ponticello, meno famoso del ponte Visconteo, ma anche questo con una storia particolare. Nel periodo napoleonico fu fatto esplodere, una volta che i francesi hanno attraversato dall'altra parte del fiume, fu fatto esplodere per non poter far passare le truppe austriache. Fino al giorno d'oggi, questo ponte, vediamo la metà in legno, abbiamo anche l'altra metà, che era la metà originale, diciamo. La particolarità è che questo ponte qua viene rifatto ogni 50 anni a spese della gente locale. Eccoci qua Ivan, per farti capire la nostra qualità, noi facciamo i tortellini freschissimi ogni giorno, li facciamo solo per servizi, questi sono stati fatti stamattina e si rappresentano così. Anche se è un prodotto semplice, possiamo chiamarlo anche povero, però è diventato famoso, ha portato il nome di Italia in tutto il mondo. E qua abbiamo, a fianco abbiamo le nostre specialità anche, i prodotti fatti in casa, fatti a mano, abbiamo le pesche e le prugne sciroppate che li facciamo noi, ogni anno raccogliamo delle migliori pesche della zona e li facciamo sciroppate con lo zucchero. Ecco qua, abbiamo dei tortellini freschissimi di nostra produzione fatti con amore. Qui abbiamo l'agnolo classico, che sarebbe quello di Valleggio, sono tutti quanti saltati al burro. Abbiamo la pera e formaggio e abbiamo anatra e tartuffo. E tutto questo ben di Dio si può accompagnare con del vino locale, che è un bordolino frizzantino, che si accompagna molto molto bene ai nostri tortellini. Signori, buon appetito! Che dire, i tortellini sono strepitosi. Si ha veramente la sensazione di assaporare il meglio di secoli di buona cucina, di dedizione all'ospite che giungeva in queste locande. Questo è uno dei posti ideali per chi ama nutrirsi anche con gli occhi di bellezza. Dal parcheggio dell'entrata di Borghetto si può salire a visitare l'antico castello Scaligero, sempre del 1200-1300, che è diventato il simbolo della città di Valleggio. Prima di rientrare a Peschiera del Garda, voglio attraversare il famoso ponte Visconteo. Fu il duca di Milano, Giangaleazzo Visconti, nel 1395, a far erigere questo ponte diga. È un'opera lunga 650 metri, che è a 8 metri d'altezza dal livello del fiume. E anche da qui la vista è incantevole. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao! Ciao! Autore dei sorrisi